Annarita Melfitani, responsabile del Movimento delle Sardine a Foggia, sabato la prima manifestazione qui in città, con quale finalità? Di portare a Foggia quello che si era perso da tanto tempo, l'uguaglianza, l'amore, la pace, i diritti degli ultimi. Come è nato il Movimento a Foggia e quando è nata la Rete delle Sardine? La Rete delle Sardine è nata qui a Foggia 15 giorni fa, abbiamo preso spunto dalla prima manifestazione che si è tenuta a Bologna e quindi abbiamo pensato di illuminare Foggia. Che partecipazione si aspetta per la manifestazione di sabato? Ci auguriamo almeno mille persone, augurandoci che Foggia si butti alle spalle tutto questo fascismo. Può fare un appello e dare un appuntamento ai cittadini foggiani che vedranno questo video, perché partecipare? Partecipare perché noi del Sud mi piace definirmi terrona, lo dico con orgoglio, dobbiamo riportare a galla tutto il nostro orgoglio di essere il Sud e dobbiamo smetterla di metterci nelle mani di chi fino a qualche giorno fa ha insultato e denigrato la nostra terra. Per questo noi diciamo che anche Foggia non si lega. Vi aspettiamo sabato dicembre alle 18.30 sull'isola Pedonale, Angolo Piazza Giordano. Vi aspettiamo, le Sardine vi aspettano per una nuova Foggia.